Fai bene tu L'Italia di Pia è un social project che inizia col nuovo anno ed è legato al mio nuovo singolo che si intitola Sto Benissimo So che potrebbe sembrare provocatorio, usare come slogan Sto Benissimo ma non è questo l'intento, anzi vuole essere il mio augurio perché sono un ottimista E' stato realizzato uno striscione degli adesivi che sintetizzano il messaggio della canzone E' un momento non facile ma sono orgogliosa di essere italiana L'Italia di Pia è il nostro viaggio che inizia oggi e non so ancora quando finirà Ha l'obiettivo di dare voci a luoghi famosi o semi sconosciuti situazioni, momenti di vita, d'arte e di cultura, fatti d'attualità Ho detto che è il nostro perché lo vorrei condividere con tutti i miei fans con tutti gli amici, con tutti gli internaziani curiosi mettendo in rete tutti i lati positivi di questo percorso attraverso delle clip o delle foto per raccontare questo nostro paese alla mia maniera senza alcuna pretesa e solo l'Italia ci chiama Benissimo